Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione, con i suoi massimi valori, è posizionata sulla Scandinavia. Sul suo bordo orientale scorrerà una goccia fredda tra Europa centrale e nord Italia. Il nord e parte del centro saranno sotto rovesce temporali, a carattere sparso, mentre al centro-sud e isole le condizioni rimarranno all'incirca stabili, tranne sui rilivi, con rialzo termico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 3 maggio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con più nubi sui settori settentrionali della regione. Dal pomeriggio nubi più compatte sulle zone interne, con possibilità di isolati fenomeni, anche a carattere temporalesco, sull'Alto Foggiano, Daunia e sull'Appennino Lucano. Migliora la sera con ampi rasserenamenti, specie nella parte meridionale. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, che risulteranno stazionarie, mentre le minime saranno in aumento. Ventilazione variabile con maggiori raffiche dai quadranti settentrionali sulla Puglia meridionale. Mari da calmi a poco mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'App Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo la nostra telespettatrice, Anna Maria Ruggero, per averci reso partecipi di questo viaggio sospeso nel vuoto dal ponte alla Luna, nei pressi di Sasso di Castalda, Potenza. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a tutti.